In arrivo un milione e mezzo di euro del PNRR per le attività del Fondo Agricolo Nappo di Scafati. Nel bene confiscato al Clangalasso è stato presentato il piano di utilizzo dei fondi. Ce ne parla Anna Testa. Ci troviamo a Scafati in provincia di Salerno, nel Fondo Nappo. Questo è uno dei più grandi beni agricoli confiscati alla Camorra. Questo bene confiscato è stato inserito tra i 72 progetti nell'ambito del PNRR per la sua riutilizzazione. Un milione e mezzo andranno al Fondo Agricolo Nicola Nappo per trasformare, riqualificare e rifunzionalizzare il fondo intero. I sette fabbricati che erano abusivi sono stati recentemente sanati dal comune di Scafati. Il fondo è stato dedicato alla memoria di Nicola Nappo, ucciso a Poggio Marino nel 2009, vittima innocente della Camorra. Questo è un fondo importantissimo, su cui tutte le istituzioni hanno investito molto. C'è un impegno impregnante di Libera. L'importante è che adesso sia arrivato il finanziamento, poi vedremo, noi seguiremo come al solito. Quasi 12 ettari di terreno, un'area a vocazione agricola con due DOP. Noi produciamo il San Marzano e ce lo trasformano in pelate e in passate, aziende di trasformazioni locali. Stamane è la costituzione della cooperativa che gestirà le attività alla presenza di istituzioni e forze dell'ordine. L'importante è vigilare, stare attenti, avere dei dossier per ognuno dei beni più importanti, che chiaramente quasi sempre sono gli immobili. Per le aziende il discorso si fa più complesso.